Una storia di giovani migranti, il cui sogno è quello di poter un giorno vestire maglie importanti per il gioco del calcio. Successo ieri è stata per quest'opera di Mario Di Caro, giornalista di Repubblica, al quale chiedo come è nata questa idea. L'idea è suggerita dalla cronaca quotidiana. Murea Football Club, lo spettacolo in scena qui a Gibellina, è il racconto di un sogno di normalità di questi due giovani migranti che sognano di salvarsi, sognano l'approdo in questa isola misteriosa, Murea, e vivono l'altalena di sentimenti che va dall'euforia della salvezza, della possibilità di diventare cittadini europei, come dicono loro, fino alla delusione di un'accoglienza mediocre. E quindi questo sogno si infrange in un certo senso? Si infrange sicuramente perché appunto vivono l'esperienza di un centro migranti che è molto simile al carcere. Quindi alla fine vanno in un'altrove nel finale dello spettacolo pieni di delusione, cioè non lasciano nessun rimpianto questa Europa, così per come loro l'hanno conosciuta li ha profondamente delusi. Quindi un sogno che non si realizza? Eh no, non si realizza. Speriamo che altri possano realizzarlo e non solo nel calcio? Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.